Le strade di Cibali come la tela di Penelope fatta di giorno e disfatta di notte. E' questo il messaggio che intendono mandare i consiglieri della stessa municipalità all'amministrazione comunale a seguito dell'episodio a dir poco inconsueto che mattinata è stato denunciato all'opinione pubblica dal consigliere Agatino Lanzafame. E' una situazione che sfiora il paradossale e forse è ridicolo quella che denunciate oggi qui in Via Marlè. Sì, oggi vogliamo denunciare la schizofrenia con la quale vengono gestiti i lavori pubblici a Catania. Delle strade sono state appena rifatte dopo cinque anni dall'inizio dei lavori di metallizzazione. L'amministrazione Scapagnini aveva iniziato i lavori di metallizzazione che con merito sono stati conclusi da questa amministrazione. Finalmente abbiamo le strade rifatte e dopo tre giorni cosa accade? Che vengono nuovamente devastate per i lavori di messa in posa della fibra ottica. Questa è una situazione schizofrenica. Abbiamo aspettato cinque anni. Non potevano aspettare cinque anni e dieci giorni prima di rifare le strade. Anche perché si vengono a creare diverse situazioni sconvenienti. La prima situazione riguarda il fatto che chi mette in posa la fibra ottica riasfalta a metà. Mentre i lavori di metallizzazione comportavano il rifacimento totale del manto stradale. Questo significa consegnare delle strade in condizioni rattoppate ai cittadini. Inoltre si pone il problema nel caso in cui i lavori di messa in posa della fibra ottica causino dei danni alla rete del metano. Sono stati effettuati due mesi di collaudi per rendere la rete sicura. Nel caso in cui ci sia un intoppo quanto tempo dovranno aspettare i cittadini prima di avere consegnate delle strade in condizioni dignitose? Questa situazione è paradossale non soltanto per i disagi arrecati ai cittadini ma anche per lo spreco di denaro. Perché evidentemente l'amministrazione doveva pagare due volte per questi lavori di rifacimento. Perché è vero che vengono effettuati a carico delle ditte ma le ditte sono state remunerate in sede di gara d'appalto. Al di là dello spreco delle risorse pubbliche dunque anche un problema di immagine civica, di disagio arrecato ai cittadini e soprattutto di coordinamento dei lavori. Una situazione insostenibile che secondo i consiglieri della Sesta Municipalità va urgentemente affrontata in un tavolo di confronto con l'amministrazione comunale.